Bene, 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 rieccoci, rieccoci. Allora, non so se notate che Marcello Chirico, davvero figaro... La 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 la! E' alto, è alto. La 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 la! Allora, per chi non lo sapesse, adesso leggiamo in bene si mette... Vieni qua, Cristiano! Facciamo i baffetti! Ecco, Rubio aveva detto io... La 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 la! Mi farò crescere i baffi fin quando ci sarà il Barcellona e se dovessimo eliminare il Barcellona sarò baffuto fino a che non saremo eliminati. Perché lui dice, vabbè, lo faccio a casa. No, tanto che ci siamo, te lo facciamo noi. Ma è molto più... Barba, io volevo fare barba e cappetti. No, sono i baffetti, sono i baffetti. Ho assistito in questo studio a tanti belli spettacoli. Questo non è un bello spettacolo. No? Eh no. Vuole che ci insudiamo? Quello che mi state facendo assiste... Fabio, no, perché lui è a lunedì di rigore. Qualità di suo avvocato, si ribelli, lei può risultarsi. Guardi che andiamo alla corte per i diritti dell'uomo, cioè è una cosa... Siamo a lei, veramente... Sì, no, no, sì, 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 sì. Ma la fattima è... Si rifiuta. Datevi le prime battute per cortesia di Allegri. Scusa, ma è in quantità di direttore cosa stai a me? Un attimo anche se è in Italia. Allegri cosa dice? Buoni! Dispiace perché era un momento in cui loro stavano facendo poco e mancavano tre minuti alla fine del primo tempo. Hanno avuto due rigori, uno regalato da noi, uno dall'arbitro. Uno regalato da noi, uno dall'arbitro, e lì quindi c'è una scusa forse ad Antonini che... Come andiamo? No, vogliamo unirsi anche per il pennello. Devo fare con le mani perché la ditta non mi ha dato nemmeno il pennello, scusa. La ditta, noi qui si fa quel che si può, Matteo Sordo, se la gilletta ci dà una mano... Pato sorridente. Pato sorridente. Pato sorridente. Pato sorridente. Cambiamo, si è già pagato la doccia. Lo pagano un sacco di soldi. Pato non stava nella giacca. Allora, scusate, il momento è delicato, non vorrei che si ferisse, però se me lo tagli... No, 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 non feriamo nessuno, non vogliamo fare del male a nessuno. No, lo credo che vuoi parli a me. Ho già pensato l'armi, l'ho già pensato. Sì, molto delicato. Che bel piacere. Voilà! E bravo, Filippo! Voilà!